Allora, noi siamo i Stelton, per chi non ci conosce noi siamo brasiliani, quindi ogni tanto ci piace anche scrivere delle cose nella nostra lingua che è il portoghese, e tra l'altro ci sono dei brasiliani, siete in tre, ok? Qualcuno che parla il portoghese in qualche modo, vabbè la spiego per chi non lo capisce, questo pezzo si chiama Caffè Pradoise e praticamente il ritornello dice io sono nato per essere il tuo ex. A solidà da cama de casal De pendurar a roupa no varal Passei un caffè pra doi Lembrei Che a gente se deu mal Che a cada dia a gente errava Passei un caffè per essere il tuo ex 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 Acabou E andou sozinha Não estou Falou